la curva più infuocata. Ieri sera in occasione della sfida di Coppa UEFA contro la Juventus il pollaio ha rotto gli argini e si è trasformato in un pericoloso uragano di invettive, perfettamente corrisposte dall'atteggiamento provocatorio dei giocatori ellenici in campo. La formazione di Trapattoni, sconfitta per 4 a 2, si è assicurata la missione ai sedicesimi di finale dopo un match sofferto e rissoso. Ai bianconeri da un lato il merito di non essersi lasciati andare a plateali reazioni in risposta alle scorrettezze avversarie. Dall'altro il demerito di non avere saputo opporre alla Panathinaikos una retroguardia sufficientemente concentrata e un centrocampo in grado di filtrare la pressione greca. In difesa soltanto Shire ha mantenuto la freddezza necessaria per reggere la spinta agonistica rivale. Cucureddu è stato sovente imbarazzato dalla vitalità di Doro Nicolae, mentre Gentile è in corso sul primo e il secondo gol in due infortuni originati anche dal nervosismo. A centrocampo Furino in forse alla vigilia per una contusione ha interpretato il suo ruolo giocoforza soltanto a mezzo servizio e Brady come già era accaduto a Brescia è spesso scomparso dal vivo del gioco, più per stanchezza che per timore. In questo contesto arduo ma redditizio è stato il lavoro sviluppato da Tardelli che in più di una circostanza è stato obbligato a correre per due. In avanti Bettega ha saputo cancellare 20 minuti iniziali deludenti con una prestazione generosa al servizio dell'interdizione e dell'alleggerimento. Dopo le gare di andata di Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA pareva che tutte e quattro le squadre italiane partecipanti avessero le carte in regola per superare il turno e invece una, la Roma, è stata estromessa da un sonoro cappotto, un'altra, l'Inter, è stata obbligata alla rissa per difendere il pareggio e le ultime due, Juventus e Torino, hanno dovuto tremare prima di pregustare la qualificazione. Segno evidente che per il calcio italiano in campo internazionale non è certo giunta l'ora di una spavalda ascesa verso i vecchi vertici di rendimento. La battaglia è all'ordine del giorno, è stata fatale alla Roma sgretolata dal pressing del Carla Zeiss, quasi fatale al Torino spesso vacillante in difesa, cara almeno all'Inter che in Romania si è ritrovata sul piano agonistico. Domani sorteggio a Zurigo con tanti auguri a chi è rimasto a galla.